Bentornati, siamo in compagnia di Rosaria Cuomo, candidata del Partito Pirata. Il Partito Pirata debutta con una propria lista per queste europee. Fondato 13 anni fa sul modello svedese, siete il partito di internet. Un partito quindi giovane ma che porta con sé un'idea antica, avete detto. Quale questa idea e come mai questa contrapposizione? Allora, questa è la prima volta che ci presentiamo in Italia, però come ha detto lei, comunque ci siamo presentati precedentemente in altri paesi d'Europa. A questi europei ci candidiamo in 11 paesi e siamo l'unico partito transazionale. Noi abbiamo come idea principale quella dello scambio etico della conoscenza e quindi per noi è un'idea importante quella che è nata poi attraverso TNT Village e tramite Luigi Di Liberto. Per voi anche il web è la nuova frontiera del lavoro. Un'arma a doppio taglio se da una parte si creano posti di lavoro, dall'altra però vengono anche eliminati, come avviene proprio in America con alcuni colossi delle multinazionali. Allora? In questo senso noi abbiamo l'idea che comunque il lavoro deve essere innovato, deve essere più competitivo per evitare che comunque possano essere eliminati i posti di lavoro. Le persone non possono pensare più col vecchio modello lavorativo dove c'è l'ufficio. Oggi si può lavorare anche senza frontiere attraverso l'utilizzo digitale di internet per poter essere competitivi sul mercato. Io lo faccio nella mia azienda, non ho bisogno di un ufficio per poter lavorare, ma posso lavorare ovunque ed essere più competitiva perché non ho quattro mura all'interno delle quali dovermi collocare ogni giorno, ma posso essere molto più proficua. Nel vostro programma compare spesso la parola democrazia liquida. Ci faccio un esempio concreto. Cos'è? Allora, la democrazia liquida noi la intendiamo nel senso di liquid feedback. Noi abbiamo una piattaforma sulla quale ognuno, ogni partecipante propone un'idea viene votata a maggioranza. È una piattaforma trasparente, è una piattaforma dove comunque chiunque voglia aggregarsi lo può fare e soprattutto non ha problematiche di visibilità dall'esterno, non è opacizzata come quella dei 5 Stelle, non ha nessun tipo di manipolazione. In cosa vi distinguete quindi dai 5 Stelle? Perché ho visto nel vostro programma che avete anche diversi punti in comune. Abbiamo diversi punti in comune sicuramente, però siamo orientati verso quello che è il diritto di conoscere prima di prendere una decisione. Pertanto per noi è fondamentale ed è un diritto inalienabile dare la conoscenza di quelle che sono le informazioni principali per poter prendere una scelta in maniera autonoma senza dover comunicare delle informazioni che possono influenzare le scelte delle persone. A proposito di diritti, voi tra i diritti civili citate i cosiddetti diritti digitali. Allora quali dovrebbero essere proprio i diritti digitali che dovrebbe avere un cittadino europeo? Sicuramente la tutela della privacy. Abbiamo assistito negli ultimi periodi a quelle che sono state le varie violazioni della privacy attraverso quello che è stato lo scandalo di Cambridge Analytica, oppure le elezioni americane. I nostri diritti sono nostri, non possono essere utilizzati da terzi o strumentalizzati per poter raggiungere degli obiettivi, ma anche il copyright. Il copyright è un elemento fondamentale del nostro programma politico, la tutela degli autori piuttosto che comunque delle lobby di distribuzione di quelle che sono i diritti sugli autori. Emergenza climatica, dite sì all'attuazione dell'Accordo di Parigi? Sì, siamo favorevoli, sicuramente siamo favorevoli all'Accordo di Parigi, siamo favorevoli a quelli che sono i movimenti che tutelano quelli che sono le variazioni climatiche. Stiamo assistendo ultimamente a quello che è il nostro maggio, benvenuto novembre, dicono molto spesso ultimamente, perché abbiamo assistito totalmente a una variazione di clima dove non siamo più soggetti a quelle che sono le abitudini climatiche degli scorsi anni. Ospicate anche un investimento nella scuola con fondi per la mobilità degli insegnanti con semestri all'estero. Sì, siamo favorevoli perché comunque in un'Europa unita dove comunque abbiamo, noi aspichiamo politicamente ed economicamente l'Unione politica ed economica europea, vogliamo che comunque i nostri insegnanti prendano il knowledge, la conoscenza dagli altri paesi per poterla riportare in Italia e poter migliorare quello che può essere il sistema scolastico su quello che è un modello di scuola europeo. Pochi secondi, un'ultima domanda, la parola chiave della vostra campagna elettorale. Knowledge is not a crime, la conoscenza non è un crimine. Pensate pirata. Grazie allora per essere stata con noi, ci rivediamo tra pochissimo per un'altra intervista.